Ciao a tutti dal salutatore, eccomi qui con un grande Davide, per voi un saluto a tutti i tuoi fans Davide Ciao, un saluto a tutti, io non sono bravo come il salutatore, però vi saluto tutti E' più bravo di me ovviamente, ovviamente salutiamo tutti i fans del Signore degli Anelli e soprattutto di Frodo Frodo Baggins, tutti gli abitanti della Contea e anche di Animali Fantastici Ecco, salutiamo tutti i fans di Animali Fantastici E poi vogliamo salutare anche i fans di Olly e Benji Di Star Trek, Gundam, tutti Un grande, un grande veramente Ricordiamo le pagine di tu e dove ti trovano sul social? Su davideperino.com che è gestita da Davide Pigliacelli, gestore del sito doppiatoriitaliani.com Poi Antonio Genna, il sito ognuno di noi del settore ha la nostra pagina Ricordiamo? E questo sono i siti dove potete andare un po' a guardare, poi su YouTube trovate qualsiasi cosa Ecco, tu gestisci personalmente YouTube e gestito... No, io non sono social per niente Perfetto, però è social perché comunque c'è chi lo cura e ovviamente avete tutte le notizie Qualche chicchia ce la vuoi dire? Chicche? Oddio, non ho novità per ora Ecco, seguitelo Qualcosa succederà Succederà, io ti ringrazio Ecco la manina del salutatore E salutiamo tutti i fans Ciao 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 Ciao